Ciao, sono Luca Tamburino dall'Italia, sono un regista e sceneggiatore e questo è il mio cortometraggio. Enjoy! Siamo tutti artisti nel dolore, come siamo tutti religiosi nella shagura, eppure vorremmo tutti essere soltanto felici. Grazie a tutti! Lontano, lontano, sempre più lontano, non ho direzione, non ho destinazione. Cammino a grandi passi, verso posti sconosciuti, spinta verso la solitudine, dall'incontrollata inettitudine che allontana da tutto e da tutti. Lontano, lontano, ancora più lontano, erigendo barriere contro un mondo che non riesco a comprendere, odiando una vita che non riesce a capirmi. Non ho direzione, non ho destinazione, correndo verso un baratro dal quale non riesco a sfuggire, spinta da un vento amaro che fa di me tempesta silenziosa, allontanandosi dalle persone, dagli amici, da se stessi, mentre sfaggiazioni incomprensibili, dettate da una voce che non riesce a controllare, incomunicabili sensazioni che non riesco a decifrare, futili distanze che non riesco a colmare. Lontano, allora, lontano da se stessi, un'anima ed un corpo che hanno smesso di comunicare, affogando in lacrime che hanno lo stesso sapore del mare. Una risacca che mi trascina lontano, in un oceano solitario nel quale non riesco a nuotare. Galleggiano lontano dalla terraferma, dove là, una sagoma nera, mi saluta sofferente. La mia stessa ombra, che mi vede allontanarsi. Vorrei capire chi sono, vorrei trovare una soluzione. Drastici rimedi che non ho il coraggio di attuare. Vorrei morire. Grazie. 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 Grazie.